Le immagini dei momenti più drammatici e significativi della storia italiana viste dall'occhio attento degli analisti della scena del crimine. Su 22 pannelli, in esposizione da oggi al prossimo 10 aprile, nella sede della Fondazione Pescara Abruzzo di Corso Umberto, a Pescara campeggiano documenti originali e materiale probatorio di alcuni importanti fatti di cronaca e venuti in Italia. Per quanto riguarda l'Abruzzo, quattro pannelli della mostra itinerante Frammenti di Storia all'Italia attraverso le immagini della Polizia Scientifica, inaugurata lo scorso anno a Roma e che ha già toccato diverse province riscuotendo grande successo di pubblico, ripercorrono le imprese della banda Battestini, che negli anni 80 ha compiuto diversi omicidi e rapine, il delitto della gioielliera Lalla Marziani, uccisa il 12 novembre del 91, l'omicidio dell'ultra biancazzurro Domenico Rigante, freddato con un colpo di pistola il primo maggio del 2012, e la tragedia di Rigopiano, nella quale il 18 gennaio del 2017 sono morte 39 persone, sepolte dalla valanga all'interno dell'omonimo hotel di Farindola. Il questore di Pescara Francesco Misiti, alla presenza del vice capo della Polizia, direttore della Criminal Pol Vittorio Rizzi, già questore di Roma e dell'Aquila, del giornalista scrittore Paolo Mastri, dei vertici della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia, del personale del Gabinetto Regionale della Scientifica di Ancona e delle massime autorità militari regionali, ha evidenziato l'importanza dell'attività che viene svolta quotidianamente dalla Polizia Scientifica. Ovviamente una branca fondamentale nel nostro apparato di sicurezza è la Polizia Scientifica, sia sotto il profilo di scena del crimine, laddove ci sia la Commissione dei Reati, ma ancora oggi, a maggior ragione, sotto il profilo dell'Ordine della Sicurezza Pubblica, perché anche lì siamo attrezzati come Polizia Scientifica ad intervenire e quindi riprendere tutte quelle vicende che possono creare turbative per l'Ordine Pubblico.